Noi abbiamo dedicato una parte del piano sociale di zona 22-24 ad iniziative di inserimento, reinserimento, di sostegno alla vita indipendente. La volontà è quella di aggredire le situazioni di fragilità, quando si esprimono in termini di vulnerabilità sociale o personale, di fornire servizi di autonomia, perché le persone con disabilità possono avere occasioni di inserimento e sviluppare percorsi di autonomia, di vita indipendente. E poi costruire intorno alla disabilità una comunità attenta che sappia progettare i servizi e possa essere attenta a tutti gli elementi escludenti che emergono nella vita sociale e comune di noi tutti. Questo si identifica con una serie di servizi che noi facciamo, ad esempio i progetti di vita individuale che abbiamo iniziato proprio quest'anno a sottoscrivere. Sono dei progetti personalizzati di inserimento sociale e lavorativo per tutte le persone con disabilità che ne facciano richiesta o qualora ne facciano richiesta le famiglie, i nuclei familiari con persone con disabilità al loro interno. Oppure la casa dopo di noi, che è una casa che eredita il progetto di casa domotica e costruisce una possibilità di inserimento attraverso un'esperienza in domiciliare, quindi in vita autonoma in un appartamento dedicato e attrezzato, che noi abbiamo identificato nella contrada di Marrucaro che oltretutto, come sul suggerimento del prefetto, è un immobile sottratto alla mafia, quindi un immobile sottratto alla mafia che viene restituito ai servizi alla persona attraverso l'inserimento di 12 disabili all'interno di questo luogo serviti dall'amministrazione. Il bando è aperto, anzi è stato aperto in questi mesi scorsi, sarà in valutazione, noi contiamo entro la fine dell'anno di attivare il servizio di autonomia attraverso un alloggio dedicato a persone con disabilità. Noi come Ateneo facciamo ovviamente un sacco di lavoro per cercare di motivare i nostri studenti, chiaramente che sono quelli già immatricolati e iscritti ai nostri corsi e poi facciamo anche un'opera molto importante insieme alle scuole per cercare di fidelizzarli così a quello che è il concetto dello studio dopo la scuola, perché molti ragazzi chiaramente non hanno bene in mente l'idea di poter continuare gli studi a livello universitario e quindi diciamo completare le loro conoscenze e le loro competenze per il mercato del lavoro. Appelliamo un po' a tutte le istituzioni, anche nazionali, perché in questa regione si possa trovare nel futuro più possibilità per restare, oppure andare a studiare anche fuori, però tornare, perché tornare è fondamentale. Noi quando parliamo di giovani che vanno fuori non dobbiamo chiedere loro un sacrificio e chiedere loro di rimanere, dobbiamo convincerli che qui trovano le stesse identiche, se non in parte migliori opportunità, che possono trovare le più grandi magari al centro nord. Quindi non dobbiamo chiedere un sacrificio, dobbiamo fare in modo che il nostro messaggio sia compreso, che passi e che ci sia la consapevolezza che qui c'è veramente un'ottima università in grado di competere a livello nazionale con le migliori. Noi stiamo facendo tutto il possibile e siamo in una fase di rinnovamento complessivo, sia dal punto di vista infrastrutturale, che dal punto di vista del personale, che dal punto di vista organizzativo. E poi sono iniziative come questa che mettono l'accento sulle dinamiche di inclusione, di far passare il messaggio che nessuno ne ha lasciato indietro, far passare il messaggio che si può acquisire sicurezza e tu acquisisci sicurezza parlando con gli altri. Il fumetto è un esempio di questo, cioè quando tu entri in un contesto ti trovi a parlare con delle persone che, anche con le loro esperienze, raccontando le loro esperienze, ti convincono che puoi farcela, ti tirano dentro. E questa è una cosa, non dimentichiamoci che l'università è prima di tutto un luogo, io su questo insisto sempre, l'università è un luogo. E nei luoghi tu incontri gente, scambi le loro esperienze e c'è un passaggio molto interessante del fumetto che dice i nostri sbagli non ci definiscono, fanno parte della nostra vita. Cioè la sicurezza che uno acquisisce nel confronto con gli altri è fondamentale e la giornata di oggi, come dire, testimonia questo impegno dell'università nei confronti di tutti, a livello proprio inclusivo. Perché abbiamo voluto fare questo convegno? Perché questo workshop? Perché? E perché dare questo titolo? Perché ognuno di noi ha un talento, quindi se noi guardiamo il cielo ci sono delle stelle che danno molta luce, stelle che ne danno di meno, ma tutte ci illuminano e quindi il processo di integrazione, di inclusione, di collaborazione, perché in realtà ognuno di noi ha un talento, mi ha spinto a valorizzare il lavoro di Michele, il nostro uditore presso operatori dei beni culturali, che ha realizzato questo fumetto, perché lui è bravo nel disegno, è un fumetto che però verrà utilizzato per distribuirlo alle scuole primarie e secondarie di primo grado, in modo tale che l'offerta formativa di Unibus possa essere letta in maniera differente e non semplicemente parlata attraverso i laboratori. Michele è un ragazzo che ha una disabilità e quindi questo purtroppo lo limita e li impedisce purtroppo di seguire normalmente le lezioni. Finita la scuola superiore, infatti, lui non sapeva cosa poter fare, né i genitori, e tramite il dottor Luciano Antezza e la professoressa Scrano abbiamo deciso quindi di sviluppare un fumetto che si chiama Universe Explorer, alla scoperta dell'Unibus a Matera, che servirà, diciamo, a promuovere l'università e i corsi all'interno dell'Università della Basilicata a Matera, utilizzando, diciamo, il fumetto come racconto e soprattutto anche per creare un collegamento con i ragazzi delle scuole superiori, in modo tale che possano anche chiarirsi un po' le idee, regalandogli, diciamo, delle pillole di informazioni dei vari corsi, che altrimenti a volte sono un po' complesse agli inizi. È un progetto di inclusione, soprattutto sociale, perché anche chi purtroppo non può, troverà sempre, diciamo, un posto all'interno dell'Università.